Ben trovati. Proseguiamo i nostri itinerari domenicali riflettendo sui temi principali della Quaresima. Abbiamo iniziato questo percorso che ci porta quest'oggi ad affrontare un tema sicuramente delicato. Quando si parla di sofferenza sono tanti gli ambiti che possiamo prendere in considerazione. Ma quando alla sofferenza aggiungiamo l'accettazione e addirittura il dono di sé per l'umanità sicuramente arriviamo a livelli molto alti. Non per niente vogliamo iniziare appunto parlando di questo facendo riferimento a colui il quale è il nostro punto di partenza per ogni riflessione. San Pio da Pietrelcina. Ecco le sue stimmate, la sua sofferenza, la sua offerta al Signore durata per anni e anni per il bene delle anime. Vediamo questo servizio. È il 3 marzo del 1919, giorno delle ceneri, quando Padre Benedetto scrive al confratello Padre Agostino da San Marco Illamis testimoniando quanto aveva visto. Padre Benedetto alla fine del mese di febbraio del 1919, in veste di ministro provinciale, era stato a San Giovanni Rotondo per la constatazione delle stimmate di Padre Pio. Della sua visita egli fece una relazione ufficiale nella congregazione anticapitolare che così annotava nel verbale di chiusura. Il padre provinciale ha riferito alla definizione di aver constatato coi propri occhi le stimmate nelle mani e nel costato del santo figliuolo Padre Pio da Pietrelcina e di averne informato il reverendissimo padre generale. Successivamente Padre Benedetto scrisse questa lettera a Padre Agostino. In lui non sono macchie o impronte, ma vere piaghe perforanti le mani e i piedi. Io poi gli osservai quella del costato, un vero squarcio che dà continuamente o sangue o sanguigno umore. Il venerdì è sangue. Lo trovai che si reggeva stento in piedi, ma lo lasciai che poteva celebrare e, quando, dice messa, il dono è esposto al pubblico, dovendo tenere le mani alzate e nude. La sofferenza, dunque, fu compagna inseparabile del cammino terreno di Padre Pio. Egli l'accettò e fece propria come condivisione della sofferenza di Cristo, fino al punto che Gesù gli chiese di rendersi partecipe delle sue stesse sofferenze di crocifisso attraverso le sacre stimmate. Il 13 ottobre del 1918, Padre Pio scrisse a una figlia spirituale Che ti dirò di me? La violenza dei miei dolori mi rende muto e mi paralizza. Prega perché l'anima mia non si perde in questa terribile prova. Padre Pio si fece penitente di tutti i suoi penitenti. Le stimmate non sono che un segno visibile di questa offerta totale che lo consacrò interamente al servizio delle anime, spesso comprate, come scrisse a un giovane convertito, al prezzo del mio sangue. E certamente l'esempio di Padre Pio è un esempio che potremmo definire eroico, è un termine questo che fa riferimento allo stesso processo di beatificazione e canonizzazione, allora quando ci si sofferma sul candidato alla santità, verificando appunto le sue virtù eroiche. Ma Padre Pio, insieme ad altri esempi a noi vicini, costituisce sicuramente, come dicevo all'inizio, un punto di riferimento che ci fa comprendere nei nostri limiti umani quanto importante sia l'accettazione della sofferenza. Un altro esempio sicuramente caratteristico, peculiare, straordinario, il termine più preciso, è quello di Genoveffa de Troia. E noi abbiamo in collegamento da Pietrelcina Fra Fortunato Grottola, che è viceposturatore della causa di Genoveffa de Troia, ma che ci dà la possibilità quest'oggi di soffermarci anche su quello che è l'inizio del percorso di sofferenza di Padre Pio, le stimmate, i primi segni proprio a Pietrelcina. Fra Fortunato, benvenuto, bentrovato. Dunque iniziamo il nostro tempo di quaresima parlando della sofferenza, un tema difficile questo. Ecco, ma che significato possiamo dargli in questo tempo forte? Certo, in questo periodo di quaresima, la figura di Padre Pio emerge fortemente, ma insieme alla figura di Padre Pio, anche la figura di Genoveffa de Troia, della quale abbiamo parlato altre volte, questi due personaggi si sono veramente configurati a Cristo e hanno saputo accettare la realtà della vita da un punto di vista prettamente umano. Questa umanità che loro hanno portato, hanno elevato, proprio l'hanno spiritualizzata e hanno fatto loro della sofferenza il loro cavallo di battaglia. Non a caso Padre Pio dice tante volte non voglio minimamente dare della mia sofferenza a qualcuno, me ne guarderei a dare un pizzico della mia sofferenza, perché io sono l'egoista della sofferenza. La stessa cosa Genoveffa de Troia, che trovandosi nel letto in via Briglia a Foggia, dice apertamente io sono tutto di Gesù, è lui che mi dà queste nuove perle quando dalla mia testa cadono frammenti di ossa. Voi sapete che Genoveffa de Troia aveva la lipoidosi e quindi il cranio era tutto quasi frantumato, era difficile proprio a far sì che non cadessero pezzetti di cranio, di ossa. Eppure lei diceva il Signore questa mattina mi ha dato un'altra perla. quindi la sofferenza passava in secondo posto, perché al primo posto c'era l'amore del Signore e l'amore del Signore prendeva il sopravvento sulla sofferenza. Ecco, fra fortunato, sono temi questi che abbiamo affrontato anche in passato, ci parlano di un'accettazione della sofferenza oltre i limiti dell'immaginabile. Ecco, ma per noi in un cammino qualesimale come possiamo attualizzare e vivere i nostri giorni questi atteggiamenti? La prima cosa che noi dovremmo fare, a mio modo di vedere, è essere convinti che ci troviamo nel periodo di quaresima. Cioè, vivere questo momento di quaresima come da un punto di vista reale, concreto. Il Signore vuole la mia conversione, vuole che io mi converta, vuole che io cambi vita. E allora, come Genoveffa, come Padre Pio, hanno saputo accettare l'invito del Signore, anche noi dovremmo sapere accettare l'invito del Signore e saperci donare anche ai fratelli. Quindi, un verticalismo e un orizzontalismo che ci avvicina al Signore, che ci fa progredire spiritualmente e ci fa essere testimoni credibili. Quindi, in questo periodo, Padre Pio diceva apertamente che bisognava fare momenti di sacrificio, ma di sacrificio fatti con consapevolezza, con la certezza che il Signore mi sta accanto, con la certezza che io posso uscire dal mio peccato, posso uscire dalle mie situazioni incresciose, perché non sono da solo. È il Signore che sta accanto a me, che mi dà la forza per poter camminare rettamente e di guardare in alto, di guardare alla Ressurrezione. Guai a noi se ci chiudessimo in uno steccato, in un recinto della Quaresima, fino a se stesso, se non guardiamo alla Ressurrezione, se non guardiamo alla Pasqua. E noi dobbiamo tendere alla Pasqua, altrimenti potremo fermarci al Sabato Santo e lì chiuderci, ma non aspettare la Ressurrezione. Noi invece dobbiamo credere nella Ressurrezione. E il cammino di Quaresima ci deve portare attraverso la nostra conversione, attraverso il nostro impegno, attraverso una vita nuova che ci viene dalla certezza che il Signore ci sostiene in ogni istante, anche nel momento del peccato, Lui ci dà la forza per rialzarci. Soltanto in questo modo possiamo avvicinarci alla Pasqua e dire oggi Cristo è risorto e anch'io sono risorto. Allora un messaggio per questa Quaresima rivolto a tutti noi, fra Fortunato. Il coraggio di non chiudersi in se stessi e di avere nel cuore il desiderio di poter incontrare anche chi ci ha fatto del male. Se siamo convinti che l'altro ci aiuta e ci sostiene, allora la Quaresima sarà per noi un motivo di crescita spirituale e ci sarà di conversione sia per noi che per gli altri. Quindi avviciniamoci al segramento della penitenza, confessiamo i nostri peccati, riprendiamoci la vita spirituale per testimoniarla e dicendo Gesù è risorto e anch'io sono risorto con Lui. Tanti auguri. Grazie, fra Fortunato. Grazie davvero di cuore per le tue preziose parole. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante ma poi torneremo insieme nella seconda parte per parlare di una categoria che sicuramente vive delle sofferenze. questo è un termine sicuramente lato ma entreremo nello specifico parlando di giovani. Torniamo insieme in questa seconda parte di itinerari domenicali. Vogliamo ora parlare, come vi dicevo, di giovani. Sono tante le problematiche che le nuove generazioni devono affrontare. Sicuramente il tempo di Quaresima può in alcuni casi sembrare lontano dalle urgenze, dalle necessità di questi giovani. Ma noi vogliamo oggi soffermarci su questa realtà e non solo grazie al contributo di una persona che è sicuramente vicina a questa realtà anche e soprattutto attraverso i media, i social che sicuramente sono un mezzo che arriva più facilmente alle nuove generazioni. Si tratta di Suor Chiara Papaleo, delle figlie di Maria Ausiliatrice, una realtà innestata nella grande famiglia dei salesiani di Don Bosco, dunque vicinissimi alla realtà dei giovani. Ecco, il mio benvenuto va soprattutto a lei in questo momento, Suor Chiara, e grazie per il suo contributo, per la sua presenza qui tra noi quest'oggi. Bentrovati, grazie di cuore a voi. Allora entriamo subito nel merito di quella che è la realtà dei giovani con un breve servizio che inquadra in maniera generica, ovviamente non possiamo essere così, come dire, dentro la questione. Indichiamo i punti principali di quella che è la realtà che vivono i giovani oggi. Nel tessuto sociale di oggi i giovani affrontano una serie di difficoltà che spesso passano inosservate. Tra le pressioni scolastiche e universitari, le aspettative familiari e un mondo del lavoro sempre più competitivo ed esclusivo, i nostri ragazzi si trovano spesso a navigare acque agitate. Molti sentono la pressione di dover essere perfetti in ogni aspetto della loro vita. La paura di fallire e la sensazione di non essere abbastanza all'altezza possono diventare pesanti fardelli da portare. Una volta completati gli studi, si trovano di fronte a un mercato del lavoro sempre più competitivo e spesso ingiusto. Le opportunità di lavoro stabile sono sempre più rare e molti si trovano a dover fare i conti con lavori precari, bassi salari e mancanza di sicurezza economica. In un'epoca dominata dai social media e dalla tecnologia, paradossalmente è facile sentirsi isolati e soli, nonostante la connettività digitale. La ricerca di un senso di appartenenza e di relazioni autentiche diventa una sfida sempre più grande in un mondo iperconnesso ma emotivamente distante. Nonostante le difficoltà, i giovani portano con sé una grande dose di speranza. Sognano un futuro migliore, ricco di opportunità e di significato. Sono determinati a superare le sfide che incontrano lungo il cammino e a costruire una vita che rispecchi i loro valori e le loro passioni. Le nuove generazioni affrontano una serie di difficoltà e sofferenze nel loro percorso verso l'età adulta. È importante riconoscere le sfide che affrontano e offrire loro il sostegno e le risorse di cui hanno bisogno per realizzare il loro potenziale. Ecco, suor Chiara, abbiamo detto all'inizio sicuramente sono tanti e complessi i problemi che riguardano il mondo dei giovani. Li abbiamo sintetizzati veramente in maniera molto, molto, come dire, estremizzata. Ma in questo sicuramente un percorso di fede può essere, anzi per noi, è sicuramente un elemento importante per chi vive da giovane dei dubbi, delle incertezze, delle sofferenze. Ecco, dal suo punto di vista come possono vivere i giovani la Quaresima? Beh, sicuramente non da soli. Io penso che un cammino impegnativo come quello di Quaresima non è un cammino che si basa su degli sforzi personali, ma è un cammino che ha bisogno di essere accompagnato e che ha bisogno di essere affrontato insieme. Per quello che vedo io, i giovani, se accompagnati, non solo camminano, volano. Per accompagnati intendo se viene loro riconosciuto il loro valore e la loro stima attraverso delle figure di riferimento. Io penso che in Quaresima in particolare, ma al di là della Quaresima, ciò che forse manca di più ai giovani, o forse mettiamolo in positivo, ciò che gli aiuta a camminare maggiormente è la presenza di adulti significativi che sono per loro madri e padri che possono anche andare a sanare o dare senso a ferite, a vuoti che si portano dentro dalle loro storie che oggi più che mai sono impegnative, benedette, ma faticose. Ecco, e quindi tutto sommato la loro vita è molto in sintonia con il cammino di Quaresima che è un cammino dove ti ritrovi nel deserto e scopri che quel deserto forse non è un luogo ospitale, cioè non è un luogo facile da abitare, ma è un luogo che può essere occasione per arrivare veramente ad una libertà, ad una terra promessa. Ecco, sono degli argomenti, come dicevamo, che possono sembrare lontani dalla quotidianità di un giovane, ma il simbolismo anche, ecco, tra le righe che ritroviamo nel percorso dei giovani, come diceva l'epoca anzi, questo cammino nel deserto è sicuramente importante, ci fa comprendere quanto effettivamente un cammino spirituale può essere utile a tanti giovani che magari in questo momento sono lontani. Parlavamo anche di esempi che sono molto forti, nella prima parte abbiamo parlato di Padre Pio, di Genova e Fade Troia, personaggi, personalità, santi che hanno dato la loro vita per il prossimo attraverso l'accettazione di una sofferenza talvolta indicibile. Ecco, un altro dei punti deboli, se così possiamo dire, dei giovani oggi è proprio a livello psicologico tanti purtroppo non riescono a sopportare anche le minime situazioni di difficoltà, questo a suo avviso da cosa è dovuto? Sono due le cose, da una parte la mancanza di adulti significativi, cioè di esempi, cioè come si sta al mondo, come si affrontano le fatiche, talvolta hanno davanti esempi di rotture, di fallimenti, di rese molto facili, quindi sicuramente questa parte che è mancata. La seconda cosa che però mi sento di dire è il senso, perché io posso stare dentro un dolore se ne intuisco il senso e il senso è sempre vocazionale, è solo che questa cosa a volte noi la diciamo troppo poco, Tante volte al dolore non c'è un perché, non sappiamo dare una motivazione, ma quello che ci serve non è una motivazione, è un senso. Allora, quando io scopro il senso posso starci dentro, cioè voglio dire spesse volte nei nostri dolori più grandi, nelle nostre ferite più profonde è nascosta la nostra vocazione, cioè una volta che lasciamo entrare lì la luce di Dio con la sua salvezza e la sua guarigione, allora quella che per noi era una ferita diventa veramente feritoia, cioè quel vuoto lì diventa spazio per accogliere altre vite e quello che noi riusciremo a comprendere, a capire, ad accogliere di chi ci viene incontro e solo noi potremo farlo, beh, quella è la nostra vocazione. Penso che ai giovani di oggi manchi questa luce, questa consapevolezza, che anche davanti a una fatica che tu vivi oggi e che non comprendi e che non riconosci puoi non arrenderti perché anche se non ne trovi una ragione c'è un senso e il senso è la tua vocazione che è scritta proprio tra le pagine più buie della tua vita, non in quelle più luminose. Quando si parla di vocazione si parla, sì, di quello che può essere il futuro di un giovane, la chiamata di quel giovane verso prospettive che possono essere il lavoro, può essere anche una vita religiosa. Lei, Suor Chiara, si occupa anche nello specifico proprio di cammini vocazionali nella pastorale giovanile. Ecco, questo particolare ambito che momento sta vivendo in base alla sua esperienza. Parlo delle vocazioni giovanili alla vita religiosa. Sicuramente è un momento che ci interroga molto perché il Signore non smette di chiamare. Bisogna capire perché ci sono così tanti rumori che offuscano questa voce, no? E questo chiama anche noi a curare la nostra vocazione prima delle vocazioni dei giovani. Cioè, quanto noi già religiosi, già consacrati, ma penso anche ai sacerdoti o penso anche alla vocazione al matrimonio, viviamo in maniera radicale e innamorata la nostra vocazione così da affascinare altri e da rendere appetibile questa vita, desiderabile questa vita di totale donazione a Dio. Io penso che se manca, cioè il Signore non smette di chiamare, ma se mancano risposte è perché forse la nostra vita non è sempre così significativa, così attraente come invece dovrebbe essere. Ecco, in questa ultima parte di questa nostra breve conversazione vogliamo soffermarci su quello che è l'ambito anche come dire pastorale nel quale lei si sta impegnando. Sappiamo che nel buio di tanti messaggi negativi la luce del Vangelo può filtrare anche attraverso i media e soprattutto i social come abbiamo anticipato. Ecco, che tipo di esperienza sta vivendo e quali sono i riscontri che sta ottenendo? per me è un'esperienza bellissima in questo senso il Papa addirittura ha convocato al Sinodo l'ambiente digitale come il Sesto Continente quindi è necessariamente una terra di missione cioè una terra da abitare perché non possiamo permetterci di lasciare il digitale senza la luce del Vangelo appunto come si diceva poco fa per me l'esperienza che ne faccio io è veramente molto bella molto profonda perché nella condivisione molto semplice di quella che è non tanto la mia vita ma quello che il poco che ho da dare insomma incontro realmente delle persone è chiaro che l'incontro non si può fermare al social ma finora la mia esperienza è proprio di un accompagnamento che poi viene a far parte della realtà sottolineando questo cioè il virtuale è reale il digitale è reale oggi noi siamo ancora abbastanza abituati a separare le due cose per questo siamo un po' diffidenti però il digitale è veramente un ambiente che da ambiente di solitudine può diventare ambiente di comunione e può condurre a degli incontri reali che realmente cambiano la vita personalmente ho molti esempi ai quali sono molto affezionata molte storie che sono nate dai social e sono proseguite in cammini di accompagnamento reale oppure molte confidenze nate attraverso i social e poi sfociate in un incontro occhi negli occhi insomma e quindi per me è un luogo da abitare potentissimo forse noi un po' più grandini vediamo il digitale come uno strumento ma dobbiamo convertirci e vederlo come vero e proprio luogo di incontro e così come io sto in un cortile di oratorio con tutto quello che sono cioè con quello che so fare col mio volto con la mia persona la stessa cosa devo necessariamente farla sul digitale cioè sono io che mi metto a disposizione dell'incontro e delle domande dei ragazzi che ne hanno bisogno insomma siamo in conclusione allora un suo augurio un suo suggerimento ai giovani che magari ci stanno seguendo in questo momento o a quelli che contatterà verso i quali ecco arriverà il suo messaggio attraverso i social in questo tempo di quaresima come possono vivere in maniera fruttuosa questo tempo mettendosi in ascolto profondo delle loro domande perché Dio non è fuori di noi Dio è prima di tutto dentro di noi perciò possono fidarsi della loro coscienza senza vergogna e chiedere aiuto e farsi accompagnare grazie grazie di cuore Suor Chiara per averci dato questo importante contributo e buon lavoro e soprattutto in questo ambito così particolare con un grande in bocca al lupo noi ci fermiamo qui per il nostro appuntamento che tornerà come sempre la settimana prossima buon proseguimento a tutti grazie a tutti